Volevamo catturare nel migliore dei modi l'energia sinestetica che si dipana dal suo lavoro, sia a livello visivo, che a livello audio, che a livello testuale. La mia ontologia è una cosa di più di quello che compreendiamo. Questo carattere si presta bene nelle sue varianti, quindi nel corsivo. Si voleva dare un'idea un po' di libro classico, di libro che ha un respiro appunto di qualche tipo. Il progetto nasce da una ricerca, una ricerca abbastanza lunga, impegnativa. Prova a ripeterla oppure? Va bene? Sì, sì. Ah, benissimo.